Camminate filosofiche con la dottoressa Eva Franchino Alla gente non importa sapere che cos'è la vita, vogliono solo sapere come attraversarla mentre la vivono. Ora cerchiamo di sparare un po' così e concentratemi proprio sui passi del momento preliminare dei vostri passi. La natura ci predispone a questo genere di conoscenza e sapere. Grazie. Grazie.